Siamo con Peppe Poeta dopo la sconfitta di Trenzo con Vittoria. Peppe, brutta sconfitta, quanto può aver inciso la trasferta in Errocanso? Spera me che ho scoperto, ma avremo una stagione tanto passata così, quindi abbiamo trovato le alibi e abbiamo fatto una brutta quantità di fai andare avanti. Cosa non ha funzionato oggi? Penso che l'energia è alla base, è specialissimo per questo quale, vorrei scontro piede anche, oggi non ce l'abbiamo fatto e abbiamo pagato. E' uscito un po' che ti menzionati dopo questo partito o no? Penso, è parte da storia a te, siamo una squadra di giovani, che ci conosciamo alla posta di Stagio, ciao per tutti, ciao buongiorno, questa volta siamo in Stagio e in Giro 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 e in Giro. Grazie.